Ciao a tutti sono Emanuele, sono al buio perché la settimana scorsa ho installato i led agli abbaglianti per la BMW Serie 3 e 46 ho trovato questo piccolo difetto, tra virgolette un difetto ma è una questione BMW quando si va ad accendere la macchina ci sono delle micro scariche all'accensione del quadro e dopodiché va a aumentare allora ecco qua andiamo all'accensione del quadro ecco qua tutto sto flash tutto sto flash lo fa con la macchina allora vi faccio vedere il problema è che durante la macchina sta accesa come potete vedere ci sono dei micro lampeggi che sinceramente mi danno un pochettino fastidio e ho chiamato e le vie elettronica mi hanno dato delle interfacce per la soluzione vi faccio vedere ancora un altro pochettino il video perché ogni tanto la macchina va vanno ad accendersi con dei micro flash agli abbaglianti ed è una cosa insomma un pochettino fastidiosa ecco qua allora ho chiamato e le vie elettronica e mi hanno dato delle interfacce che vi mostrerò immediatamente per risolvere questo problema sono delle interfacce della Fonocar che ho acquistato sempre da loro e che mi hanno garantito che risolveranno questo problema ecco qua il prodotto allora parliamo dell'articolo 07588 questo diciamo è specifico per le macchine BMW e Audi c'è anche per Mercedes ma solitamente il difetto lo fanno insomma le macchine tedesche allora niente vado ad aprire la confezione insomma ecco però parliamo di un'interfaccia che devono essere installate in base a certe autovetture possono essere installate sia prima dell'interfaccia CANBUS che dopo l'interfaccia quindi tra cablaggio auto prima e interfaccia CANBUS oppure tra lampada e interfaccia CANBUS sono di piccole dimensioni però spero che mi risolvano il problema e vi farò vedere subito dopo l'installazione se il problema è risolto oppure no da premettere che possono essere utilizzate su qualsiasi altra lampada LED ma comunque sono specifiche per il LED Fonocar quindi vi aggiornerò subito dopo l'installazione allora operazione conclusa allora ho installato le interfacce il problema è stato risolto ma non solo per i LED è stato risolto anche per l'80% che mi faceva questa situazione da quando ho messo gli Angel Ace a LED adesso è quasi impercettibile anche per i LED allora ve lo faccio vedere dall'interno della macchina per farvi mostrare l'accensione del quadro che la situazione è veramente cambiata di tanto allora come potete vedere si vede un piccolo flash all'accensione quando fa il check la macchina ma durante il viaggio come potete vedere da qualche secondo prima faceva il flash adesso non lo fa più il problema per me è risolto al 100%